ragazzi buonasera e buon giovedì ore 19 e 25 il punto venite a ridosso della chiusura oggi pure ragazze siete passate in tantissimo e pure oggi pomeriggio brave brave diamo un senso alle aperture pomeridiane di giovedì mi raccomando che dirvi che anche oggi abbiamo avuto uno scarico e l'avevo detto ieri non ci fermiamo più ragazzi stiamo caricando il negozio proprio bene bene ma anche voi ragazzi mi date una mano me lo svuotate prendete tantissimi degli articoli che stiamo prendendo che vi piacciono che insomma ragazzi avete ragione allora cominciamo velocissimo con il mio look of the day di oggi perché tutto cuoricini e quindi che ve lo devo dire io lo amo lo adoro vestitino in tessuto di georgette con il colletto alla coreana la manica ne vogliamo parlare tutta bella morbida morbida con l'elastichino per quanto riguarda qui il polsino molto molto morbido essendo in georgette ed essendo comunque un modellino foderato si potrebbe mettere tranquillamente senza niente ma io lo sapete sono freddolosa quindi ci ho messo sotto un maglioncino di quelli con il collo a v in lanetta ragazze sono freddolosa è che ci devo fare però vedete calza pure bene con tutto il maglioncino non si vede assolutamente ovviamente nella parte del busto allora brevissime interruzioni perché è venuta adesso marilena e mi ha detto ma no ho visto il vestito come il tuo lo voglio e quindi eccolo qua marilena te lo metti a capodanno a capodanno ok allora aspettiamo la foto col tag mi raccomando allora eccomi si appena chiusa la porta era passata marilena di corsa a prendersi questo vestitino come vi ha detto sul rosso ovvero nero con i cuori rossi perché perché cinque minuti prima era venuto a prendersi lo spolverino sofficioso è uscita è rientrata di corsa ma non mi devo prendere il vestito come il tuo e me lo metto a capodanno marilena io mi raccomando aspetto la foto col tag e te lo dico allora ragazze il vestitino che mi sono presa io che si è presa pure marilena in realtà ha la sua di cintina eccola qui ragazze voi lo sapete però io le cinte elastiche su tutto oppure su un pigiama le metterei tranquillamente perché comunque mi vanno a fare un pochino più di punto vita e mi danno la possibilità di sblusare ulteriormente il vestitino che è in georgetta per poterci andare a mettere tranquillamente i miei bei leggings quelli felpati da 8 euro e 99 lo stival è sempre il fantastico io vi dico è talmente comodo questo in promo a 19,99 che per paura che mi si rovini mi sa che me ne prendo un altro 39 perché veramente ragazze è fantastico con la zeppa interna con il carro armato che non mi fa scivolare le amo allora a questo punto vi faccio vedere che cosa mi è ritornato di nuovo disponibile cominciamo subito subito con e questo lo dico pure per cristina mi sono ritornati ultimissimi pezzi per quanto riguarda il maglione con il cuore a collo alto quello ultra soffice che abbiamo visto ieri quindi di nuovo disponibile nella colorazione marroncina di nuovo disponibile nella colorazione bianca e nera ancora disponibile nella colorazione celeste nella colorazione verde e nella colorazione rosa se vi interessa ragazze sono gli ultimissimi pezzi di questo maglioncino quindi mi raccomando correte 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 poi di nuovo mi sono arrivate le camicie modellino morbido per le mie signore che hanno un po più di seno che vogliono stare comode ragazze questo il tessuto è fantastico taglia unica modello molto molto morbido comunque me sa che me la prendo perché il tessuto è veramente incredibile e poi da sblusare poi magari da mettere con il nodo merita veramente modello che rimane ampio per quanto riguarda la parte del seno disponibile nella colorazione rossa e nella colorazione nera questo ha dei dettagli che sono fantastici tipo guardate il polsino col doppio bottone che rimane bello ampio e la manica leggermente a palloncino ma poi soprattutto il tessuto che sembra una via di mezzo tra il raso e la seta bello 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 e poi sempre per quanto riguarda le camicie che hanno un'ottima vestibilità mi sono ritornate di nuovo disponibili quelle che si possono portare sia con il nodo che ci sono ritornate sempre in tessuto di giorgetto stampato nelle varie tonalità mi è rientrata la versione con il viola e tutte questa fantasia optical con la mare nella fantasia optical con i cuori base nera e cuoricini marroncini c'era pure con i cuoricini sabbia ma è già andata via poi mi sono dimenticata ieri di dirvi che mi erano arrivate anche di nuovo disponibili e tutte le sciarpe in misto viscosa in un tripudio di colori sempre allo stesso prezzo ragazzi incredibili mi è arrivata questa versione nuova ultra calda ultra soffice disponibile in due fantasie ma questo ve le farò vedere bene bene nel dettaglio d'ormani e sempre in tessuto morbidissimo misto che un po' l'effetto angora ragazzi mi è arrivata la fantasia a quadrettoni grandi e la fantasia con i cuori questi sono veramente per il freddo che sta per arrivare ragazze poi mi sono e ne sono entusiasta ritornate di nuovo disponibili le gonne con le balze in tulle la versione lunghet questa me la prendo una è la mia però insomma ragazze ci sono state tranquille mi sono ritornate di nuovo disponibili le gonne plissetate lunghe mi sono ritornate di nuovo disponibili le gonnelline plisset scozzese in taglia unica che hanno un'ottima vestibilità queste pure con un maglioncino se non fate niente di troppo particolare per l'ultimo dell'anno sono deliziose new entry perché ragazze lo stiamo stravendendo il modello over di questi maglioni new entry la versione in tinta unita e nella versione rossa modello colla v con la lavorazione a trecce è bellissimo il tessuto è fantastico perché lo stesso di quello che portavo io ieri che abbiamo visto di nuovo con i cuori che mi è ritornato di nuovo disponibile oggi pomeriggio anzi stamattina sul tardi mi è passata una ragazza mi aveva chiesto ma i maglioncini quelli col cuore over che hai fatto vedere ieri erano finiti sono ritornati di nuovo disponibili e nella versione rossa e nella versione nera e poi abbiamo ancora altri colori quello con le trecce che vi stavo facendo vedere che c'è arrivato nuovo ragazze guardate che bella la lavorazione col colla v c'è rosso e nero e questi sono fantastici poi di nuovo assortite le lunghette quelle con lo spacchetto davanti nel tessuto punto milano che vestono benissimo mi sono ritornati e questo soprattutto per susanna se non erro il nome dovrebbe essere quello giusto i completi in tessuto di lana taglia unica con un'ottima vestibilità il pantalone quella palazzo che scende giù perfetto il maglioncino è quello leggermente cortino quello che ragazze che ci ho fatto praticamente un tiktok questo qui quello che mi buttava a terra che tutte dicevate ma che sei svenuta no non ero svenuta era proprio il tiktok che era così comunque quello è il completo che è ritornato di nuovo disponibile e a questo punto vi dovevo far vedere tre modelli di maglioncini che non sono riuscita a farvi vedere ieri ragazzi eccoli qua ma quant'è bellino con questa lavorazione modello giro collo maglioncino che rimane leggermente sagomadino la lavorazione la troviamo su tutto quanto il maglione un effetto zittirinato leggero leggero tridimensionale ma proprio appena appena disponibile questo modellino qua misso viscose modal sofficissimo questo poi non è nemmeno tanto spesso tanto erto come maglioncino quindi secondo me eppure messo dentro a una gonna tipo a quella con lì sto cercando di fare un abbinamento per il 31 ragazze dovrebbe essere delizioso disponibile questo modellino qui nella versione bianca nella versione fox ea nella versione nera nella versione grigia tributio di colori nella versione celeste nella versione sabbia e nella versione rosa tendente quasi al glicine però ancora una puntina di rosa su questo non è proprio glicine e glicine ragazze taglia unica un pochino più avvitatino mentre invece rimane molto morbido e ultra soffice questo non va assolutamente messo dentro tutt'al più va ripreso leggermente nella parte davanti modello sondato questo mi arriva a coprire le sciapette perfetto da mettere su leggins è perfetto da mettere su tutto mi piace da impazzire il fatto che abbia la lavorazione a trecce praticamente fino a metà e poi nella parte di sotto sia liscio primo perché movimentato nella parte di sopra più liscio sotto vuol dire che comunque non mi va ad allargare sotto seconda cosa io già me lo immagino con un bel cintone qui che va a dividere che fa l'effetto tipo mini mini abito il collo ragazze guardate quanto è morbido cioè questo pure da mettere con la spalla ascesa il tessuto misso viscosa modal caldo e sofficissimo disponibile nella colorazione nera spettacolo disponibile nella colorazione blu elettrico e poi ma soprattutto le mie signore che vogliono dei magliorcini che siano mistolanetta e modale viscosa che non facciano troppi pallini che siano un po fini che abbiano lo scolla v che rimangano morbidi senza essere enormi e che abbiano comunque un bel giro manica che siano lunghi ma che non arrivino sotto il ginocchio e che quindi coprano un pochino le sciapette e soprattutto che abbiano degli spacchettini laterali in maniera natale che non vadano a fasciare la parte delle ciapette mi è arrivato questo modello qui nella versione rosa big bubble cioè ma quanto è bello sto rosa big bubble ragazze bello brillante proprio nella colorazione sabbia quella nella colorazione se riesco eccomi qua nella colorazione blu scuro nella colorazione nera che non manca mai a un prezzo è quella che io definisco la maglia un pochino più pesantina e poi ancora vi dico che il maglione con gli smile proprio come quello che mi sono presa io c'è ritornato di nuovo disponibile che è l'ultimo pezzo a disposizione per quella fantasia e poi vi dico che mi sono pure arrivati altri modellini nuovi di borse vi faccio cioè no guardate quanto è bello lo zainetto piccolo bellissimo tutti quanti in promo 12 euro e 99 le nostre borse ragazze vi faccio vedere il tavolo che abbiamo rifatto con tutto quanto l'elegante mi raccomando alcuni di queste cose tipo questo qui in rosso sono gli ultimi pezzi disponibili correte ragazze correte la gonna ma come sta sta gonna plissettata in ciniglietta vogliamo parlare della bralette tutta pagliettata sopra gli shorts in ecopelle con la borsettina tracolla la borsettina in dainetto soffice mamma quanto è figa e la gonna questa è quella che mi prendo ragazze ve lo dico allora a questo punto ci vediamo domani mattina che è venerdì dalle 9 e 30 fino alle 13 e 30 poi dalle 16 alle 19 e 30 io vado perché sono le 19 e 45 circa devo postarvi le foto di tutti quanti questi articoli dobbiamo vedere pure insieme se c'è qualche altro articolo che ho saltato anche perché io non faccio un tempo a sistemare e mettere a posto una cosa che viene spostata e allora mi ricordo che stavo qui ma poi il giorno dopo qui non c'è più sta di là e va beh perché arrivano articoli nuovi in continuazione quindi mi raccomando ragazze occhi aperti ci vediamo domani mattina è tutta reggione la ciao 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 ciao